Ragazzi volevo segnalarvi che 105.net ha realizzato la prima applicazione per iPhone dello Zola di 105 Pensate ragazzi siamo all'avanguardia, il futuro ormai ce l'avrete dentro il vostro telefonino La scaricata è gratuita, non costa un cazzo, c'è il tastino Zola di 105 Voi cliccate, entrate nel podcast, entri nel mondo dello Zola di 105, hai la Zoredio, hai dei nostri video È un'applicazione bellissima, divertentissima, vi scaricate immediatamente, gratuitamente Portateci sempre con voi nel vostro iPhone